Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio parlare di una farfalla che si chiama Emmelina monodactila e fa parte della famiglia delle Pteforidi. E' una farfalla notturna e di giorno si nasconde tra l'erba e fa credere ai predatori che è solo un filo di erba secca, ma invece è una farfalla, come potete vedere sembra un ramo. Ed è molto piccola. L'ho trovata a casa di una mia amica che si chiama Ludovica e quando l'ho vista l'ho presa immediatamente. Io con questo vi saluto. Ciao ciao ragazzi, se volete iscrivetevi, lasciate un like e attivate la campanellina. Ciao ciao!